C'è chi nella propria abitazione realizza spesso un giardino pensile e c'è chi invece la propria manzarda la organizza come una piccola fattoria per animali. Ed è quello che è accaduto in Via Piave a Pagani, dove è stato ritrovato, dopo l'incendio avvenuto ieri nella tarda mattinata, una vera e propria mini fattoria con tanto di uccelli, galline, conigli e perfino a quanto pare un maialino. Sarebbe stata una scintilla a propagare le fiamme nell'appartamento creando il caos in tutta l'area. A prendere fuoco la paglia utilizzata per dar da mangiare gli animali che si trovavano appunto nella manzarda. Le indagini sono ancora in corso anche se quella che è appena passata è stata la mattinata dei controlli dei danni dopo quanto già è stato effettuato come lavoro dai vigili fuoco nella giornata di ieri. Una persona anziana è stata salvata dai vigili stessi del distaccamento di un oceano inferiore aiutata poi dai medici del 118 giunti immediatamente sul posto. All'interno dell'appartamento di questo storico cortile, come si diceva, vi erano animali, molti dei quali purtroppo morti a causa delle fiamme e della paglia che prendendo fuoco ha sprigionato un denso fumo rendendo l'aria irrespirabile per molti minuti. Ovviamente tutti gli abitanti della zona sono stati invitati a lasciare le proprie case in attesa che si procedesse alla messa in sicurezza dell'area. Nessuno però ha riportato ferite o traumi.